Ah, certo! No, adesso sono da bella... No, guarda, sono a Milano! Guarda la tua casa, ho lavorato... Che fatti? Che fatti? Che fatti? Che fatti? Io faccio pomeriggio, se fai bene niente... Che fai bene? Hai capito? Certo? Italiana Salsiccia, sempre un po'... E' un po' di perferie! Non ho mai... E' un po' di perferie! E' un po' di perferie! E' un po' di perferie! Quella non sa che sarebbe un esperanza da fare... Perché mi avevamo quando chiamato loro... Io e Rita, insieme a chi mi ha chiedere la questione del primo... Ma perché la cosa fa? Ma il primo, chi lavora? In terra! In terra? Come è stata? Ma è stata che stanno chiuso... Il primo... Ma poi invece ci stai... Cadia la Milchis... Oh etc... Ta è lively la sea... E' were... Ecco... Chiusa... That's gre LA... Ecco... Grazie a tutti.